Stavo cercando di sviare la conversazione, di fargli capire che, insomma, non lo sento più bene. Caspita! Ah, porca vacca di spuccioso! Poi ho come l'impressione che qua si mu... Ah! Ho trovato la possibilità di poter chiamare Sonic. Ho cercato sul dark web, cos'è un po' strane. Ma l'ho trovato, ora potrò chiamare Sonic. Forse Shin Sonic, forse Sonic.exe, non lo so. Però fa tutto parte delle Sonic Tapes. E potrò chiamarlo direttamente dal computer. Così posso registrare tutto quanto. Ciao, mi cercavi? Eh, beh, volevo chiederti dei Sonic Tapes. Cioè, di tutta la storia dei Sonic... Sono tutte vere le cose che esistono, che sono state dette? I Sonic Tapes? Non dovresti saperne nulla. Non ti sento... Ok, ragazzi, scusate. Mi sono mutato un attimo. Stavo cercando di sviare la conversazione, di fargli capire che, insomma, non lo sento più bene. Caspita, non so più cosa dirgli adesso. Cioè, che cosa faccio? È impazzito. E gli dico... Cioè, gli fa cambio domanda, tipo. Vediamo un attimo se funziona. No, vabbè, ma quindi esistono veramente Sonic? Wow, e cosa contengono queste... Sonic Tapes? Questi nastri di Sonic? Ragazzi, ma... Ma li sentite, ma... Sono suoni! No, 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 ragazzi! Ragazzi, c'è qualcuno in casa! No, 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 ragazzi, c'è qualcuno in casa! No, no, non posso fare entrare... Non posso fare entrare Sonic in casa, ragazzi! Ma no, 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 no! No, no, vai via! Annullo qualsiasi maledizione! Annullo! Annullo! Non ho smesso? Quindi questa cosa funziona veramente? Non ho smesso oppure mi sta prendendo in giro? Sonic, dimmi la verità! Sei tu che stai a casa mia? Oh, forse! Sono sui Sonic che viene a farti visita! In Sonic? Dici quello che praticamente mi ha distrutto il drone? Quello che è qui? No, ragazzi, aspettate un attimo! Mi sta paresemente prendendo in giro! Forse i passi erano solamente dei miei vicini, no? Ora che ci penso! Cioè... Certo, erano molto forti! Non è possibile! Non posso ne essere dei miei vicini! Eh, ragazzi, ma... Mi sta controllando il computer! Mi ha messo questa cosa! Dobbiamo... Vederla, forse? Ci sta facendo vedere questo video qua, nello specifico! Siamo dentro una casa! E c'è questa ragazza... Che sta col telefono in bagno! Sta parlando con qualcuno, forse? Che succede? Ah, sta parlando con sua madre! Ok! Si chiama mamma... Agnese! Agnese! Ho sentito delle leggende su mamma, Agnese! Poi... Fra poco vediamo se son vero oppure no! Praticamente... Boh, sta guardando il telefono e dice... Scusa, sono al lavoro, adesso non posso parlare, purtroppo! Parliamo dopo, dice! Beh, c'è qualcosa che puzza come... Insomma, in modo marcio nella casa, dice... Lei! E non so... Hai buttato lo sporco? Mi viene da dire, non so! Ok, quindi sta andando a vedere fuori dalla finestra... E... Cos'è che potrebbe puzzare? Ma poi qual è il problema, quindi? Cosa stiamo vedendo, esattamente? È come se stesse per succedere qualcosa, no? Ah! Ecco, appunto... Ehm... E dice... Mamma? Ehi, cara, dice... Dice... Oh, pensavo che tornassi la prossima settimana! Eh, però non risponde... Oh, davvero? Ehm... Mi sto inquietando, ragazzi... Va tutto bene, dice lei? No, che non va tutto bene, scappa! Sì, sì! Ma quale mamma parla così? No, per favore, scappa! Ti sta per uccidere! Eh, eh, la sta videochiamando? Sua madre, quella vera, però! Questa è quella sbagliata! Questa non è veramente sua madre! Vedi, questa è sua madre! E lei, invece? Dice... Ehi, sembra che hai appena visto un fantasma! Tutto... va tutto bene? E poi lei guarda davanti? Ah, porca vacca di spuccioso! Ma io... Sbaglio, oppure vedo qualcosa nel riflesso dell'obiettivo? Ma ragazzi, c'è qualcosa? Vabbè... Mi sto immaginando qualcosa... Forse mi sto immaginando io le cose! Giusto? Me le sto immaginando, giusto? Sì, 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 mi sto immaginando le cose! Non preoccupatevi, fate finta di niente! Mi sto immaginando le cose, ok? C'è qualcuno dietro... C'è qualcuno dietro di me! Forse sì, forse no! Ma dimmi, perché sei così interessato ai Sonic Tapes? Sonic, allora... Io ho sentito delle voci, purtroppo, sui Sonic Tapes. E poi, Sonic... Perché mi hai distrutto il drone? Quello, sai, che ho pagato tanto... Sonic? Ragazzi, perché non risponde? Sonic, mi senti? Ma la chiamata va ancora! Sonic? 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 No, 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 no! Ragazzi, mi muto! Perché non parla? Ah... Capisco... Quindi eri tu! Sai... Non mi piace essere osservato... Questo... È il mio mondo... Le mie regole! Regole! Eh... No... Nero io, no... No... Eh, forse sì, però... Mi dispiace? Non volevo? Troppo tardi per le scuse! Ora... Sei parte di questo! Dopotutto era quello che volevi! Bene, 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 bene! Sonico entra nella gabbia! Sonico verrà mandato! Faremo lo scusato! Ragazzi... Mi sono mutato! Ragazzi, avete sentito? Ragazzi, che dannazione di problemi ha questo Sonic? Perché gli cambia la voce? No, no, no... No, no, no... Annullo qualsiasi maledizione! Annullo, 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 annullo! Non dovevo mai spiarlo con il drone! Non lo dovevo spiare! Non dovevo spiarlo, ragazzi! Non dovevo, non dovevo, non dovevo, non dovevo! Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? No, vabbè, è successa la stessa cosa, ragazzi! Ma quante cose dobbiamo vederci? Ci sta facendo vedere tipo il secondo episodio di Mamma Agnese, ragazzi! Che, peraltro, magari potremmo anche avvistarla con il drone, se arriva... Magari la chiamiamo dal dark web? Farebbe un'ottima idea! Ma, cioè, vorrei evitare, no? Però, insomma, si possono chiamare tutte dal dark web, volendo! Guardate! Ovviamente, sua madre, questa è quella vera! È super preoccupata, no? Dice, è sopra! Prometti che non ti arrabbi! Dice che c'è qualcuno sopra che sta facendo finta di essere te! E ha detto il doppelganger, che è tipo un demone! Quindi, praticamente, lei ha trovato sto demone... Che fa finta di essere un'altra persona! E sua madre, ovviamente, non sembra molto convinta di questa cosa! Dice, ah, quindi questo doppelganger sta nella nostra casa? Mmm... E quindi sua madre dice... Beh, vado, ovviamente, a farlo uscire dalla casa! Aspetta qui, dice! Va bene! Quindi bisognerà aspettare, ragazzi! Non so che cosa succederà adesso, sua madre! Non so... Ecco, sua madre sembra disperata, forse perché dice... Ma mia figlia è pazza! Non è giusto! Perché ho la figlia pazza? Sì, cara! Sì, sì, sto guardando! Aspetta lì! Aspetta lì! Ok! E... Ha sentito un rumore dall'altra stanza! Quindi va a controllare! Cosa sarà mai? Mmm... Oh my gosh! Don't be silly! Lei praticamente sta pensando... Vabbè, sto impazzendo pure io, no, adesso? Cioè, sto credendo alle parole di mia figlia? Cos'è? Sono pazza, per caso? Quelli sono dei farmaci? Non so, magari saranno... Qualche tipo di farmaco particolare per la testolina? Non so... E dietro... Ma che occhio ha? Hai visto? Mi sa che... Sua madre... È... È stata fatta fuori? E lei... Eccola! Sta scendendo giù dalle scale! Ma mi sa che questa non è la sua vera madre! No, 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 no! Scappa! Scappa! Non è tua madre! L'hai vista? Dice... Sì, certo, cara! L'ho tolta di mezzo, dice! Sei sicura? Non ti fidi di tua madre? Certo che mi fido! Ti amo, dice lei! Anch'io ti amo! E non hai preso queste pastiglie da un po' di tempo? Ehm... Porca vacca! Ragazzi! Se vedete Mamma Agnese, scappate immediatamente! E poi qua continua! Qua stanno registrando... Con una videocamera dove l'hanno avvistata praticamente, mi sa Mamma Agnese! Perché ormai è dentro nel nostro mondo! Ma perché Sonic? Mica c'entra con Mamma Agnese, tipo! Hmm... Dice... Zoom nel tunnel! C'è qualcuno lì dentro? Puoi aiutarmi? Dice... Non dovresti farlo! Mi sono rotta la caviglia, dice! Non posso camminare! Aiutami! Dice puoi venire nel buio e aiutarmi? Non mi riesco a vedere! Ti prometto che non ti farò del male! Ragazzi, io non mi fiderei molto di questa Mamma Agnese! Sono molto grata! Ti ringrazio! Scappa! Beh, non sembra che abbia la caviglia rotta! Oh, porca di quella vacca! Eh, la stessa cosa ha detto lei! Quindi non sembra che hai la caviglia rotta! Cosa fa? Ma Sonic sta cercando di torturarmi! Ma cosa succede? Ti cerca di scoprire i miei segreti! N-no... Continua! E lo scoprirai! Sonic? Ma ragazzino sta parlando di nuovo! Sonic? Sonic? Dov... Cosa intendevi? Sonic? No, quando sta zitto ho paura perché voglio... Vuol dire che sta per fare qualcosa! No? No, no, no ragazzi! C'è stato un rumore nell'altra stanza! C'è stato un rumore! Avete sentito tutti! Avete sentito tutti! Porca vacca! No, no, no! Mi ha interrotto la chiamata e mi ha detto che Sonic è qua! Ok! Abbiamo un problema ragazzi! Io da questa stanza non uscirò! Se vuoi che Tails non ti uccida dovrai giocare a questo mio gioco! Ma a quale gioco? Di che gioco parli esattamente? Controlla nella cartella dei download! È già scaricato lì dentro! Aspettate un attimo! Mi ha detto di controllare nella cartella dei download e... Ma ragazzi è vero! Ho un gioco che si chiama Sonic! Adesso lo avviamo allora! Perché non vorrei che poi dopo Shin Sonic mi uccida dato che è qua! E ragazzi vedete qua? Ecco praticamente questo è il gioco di Sonic! Avete sentito? Che diavolo era? Quello era un sorriso cattivo di Sonic! Questa è una musica molto strana! E questo è Green Hill Zone! E qua ragazzi c'è Tails! Quindi praticamente io sto viaggiando con Tails In questa versione in realtà molto molto distorta di Green Hill Zone Porca vacca guardate qua! Ho paurissima anche perché c'è sta musica orribilmente inquietante Dannazione! Ragazzi! Che diavolo sono queste cose? Sono dei cadaveri! Guardate! Guardate! Qui non voi non... Cioè sì lo vedete però è pieno di cose Attaccate che sono morte! No! No 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 no! Paurissima! Guardate qui! Ma che diavolo è successo? Perché è tutto morto? Oh mio dio che brutta cosa ragazzi! Guardate che questo gioco fa venire da vomitare! Perché mi fa girare la testa quasi! Non sento più niente! Questo è Sonic! Che succede? Sonic... Sei Shin Sonic? Oppure Sonic X? Avete sentito? Avete visto che occhiaffatto? Dice... Ehi ciao! Vuoi giocare con me? No! No non voglio giocare con te! L'ha ripetuto pure! A nascondino! E ovviamente! Guardate c'è Tails che sta piangendo! E che dice... Indica lì sotto! Avete visto? C'era qualcosa... Cos'è che compare qui sotto? No 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 ragazzi! C'è Tails che sta essendo praticamente torturato da Sonic! Ma che dannazione di gioco è questo? Che gioco mi sta facendo giocare Sonic? Non voglio giocarci! Poi ho come l'impressione che qua si mu... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Non si può fare niente! No 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 ragazzi! Questo è Sonic! Questo è Sonic! Questo è Sonic! Aaaaaah! No 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 no! Ma che caspita mi state dicendo! Sei stato troppo lento! Devi riprovare! E riproviamo allora che te devo di... In questo caso c'è Knuckles ragazzi! E siamo in un altro mondo praticamente! Dannazione! Con questo sicuramente non riuscirò comunque perché tanto... Sonic mi vuole uccidere! No paura! Ho paura! Non voglio vedere Sonic! Perché non si vede più niente! Porco due! Che cosa è successo qui? Quello è... Ma porca vacca che schifo! Ti ho trovato dice! No! No! Aaaaaaah! No! Devo andargli addosso! Non voglio! Ah! Qu'un X! Pam! 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 Oh! Dice che morirò! Che brutta cosa Tantissime anime Con cui giocare Per un po' di tempo Non trovi? Eh, sì, trovo E adesso qui dove, caspita, siamo finiti Con X io non posso più picchiare, purtroppo Ma adesso sicuramente mi daranno anche i comandi Ma avete capito in che caspita di versione distorta, maledetta Di Sonic siamo finiti E perché Sonic ci sta facendo giocare a questa cosa, ragazzi? Perché vuole che giochiamo proprio a questo gioco? Sarà perché è arrabbiato con me Forse non lo dovevo spiare con il drone Palesemente, ragazzi Eh, vabbè, ho capito Ma qua io non posso, cioè Alla fine qua bisogna fare qualcosa per Sonic Anche perché sta infestando la zona Cioè, non va bene Qua praticamente sembra un tunnel infinito Dove bisogna scendere le scale e andare dritti Inevitabilmente aspettando la morte Perché poi Sonic X arriverà Ecco, appunto Guardate qua Tutte le torce, tutto il fuoco si è spento Quindi è tutto buio Sonic Che succede? Non mi fa più vedere niente Ma che caspita di problemi ha? Dice, io sono Dio Sei pronto Per il secondo round utente? Eh, no Mi dice game over Io non credo ci sia un modo per vincere questo gioco, no? Non capisco Mi spiace Questo proprio non lo so tradurre Ma ragazzi, ma che problemi ci sono? Annullo! Ciao!